ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video tag molto molto particolare perché sono stata taggata da betty82 che ringrazio tantissimo ti mando un grosso bacio perché sapete tutti che betty con me e con fabiana facciamo il trio delle makeup angel quindi sono molto contenta di fare questo tag dove lei ovviamente mi ha taggato quindi prendiamo gli occhiali e iniziamo a fare questo tag quindi leggiamo le domande bene scusate se avete il riflesso degli occhiali ma li devo portare perché devo leggere e quindi mi servono gli occhiali allora questo tag si chiama aspettate che leggo pazzi per la spesa allora iniziamo subito ci mettiamo belle comode con il tablet in mano e iniziamo con questo domande allora domanda numero uno quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10 allora dipende dove devo andare io dipende dove devo andare mi piace diciamo fare la spesa vabbè dai da 1 a 10 non ci vado spesso questo velo devo prescindere da 1 a 10 mi piace fare la spesa 6 7 seconda domanda quante volte alla settimana vai a fare la spesa allora prima io andavo una volta a settimana vi parlo quando andavo con mia sorella a fare la spesa quindi una volta a settimana perché facevamo la spesa per una settimana intera terza domanda quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali di meno allora io sinceramente vado di più all'euro spin quello è il supermercato che mi piace di più non vado dove le cose ovviamente costano care perché non ne vale la pena sinceramente quindi vado più spesso vado spesso scusate vado spesso all'euro spin o all'idl snobbo gli altri sinceramente quarta domanda fai la lista allora prima mi capitava di fare la lista o la dimenticavo a casa o non pensavo proprio di prenderla tipo che so me la portavo oppure la scrivevo nel cellulare ma io non prendevo mai il cellulare quindi faccio la lista ma poi mi dimentico quello che devo prendere cioè mi dimentico di avere la lista in poche parole va 05 quinta domanda vai da solo con qualcuno allora io spesso andavo a fare la spesa con mia sorella perché diciamo era una routine una cosa che facevamo perché poi io mi sono trasferita in un'altra casa non abitavamo più nella stessa casa e quindi era un modo di stare insieme quindi andavo con mia sorella invece ultimamente se devo andare all'idl quindi mi devono accompagnare a catania vado spesso con mio figlio carmelo e la mia migliore amica poi sesta domanda hai un giorno fisso sempre per quanto riguardava mia sorella mirella andavamo il lunedì mattina perché accompagnavamo i bambini a scuola quindi pensate che accompagnavi i miei figli all'elementare adesso uno ha finito i superiori perciò figuratevi quanto tempo fa noi ci piaceva andare il lunedì perché portavamo i ragazzini a scuola quindi avevamo tutto il tempo possibile immaginabile per fare la spesa andavamo con una tranquillità pazzesca facevamo la spesa e poi andavamo a casa la sistemiamo e tutto senza avere quella fretta del fare diciamo tutto velocemente specialmente se hai ragazzi intorno noi avevamo tutta quella calma e il lunedì ci piaceva farla perché avevamo la spesa per tutta la settimana quindi avevamo tutto affettato tutto quello che ci serviva per tutta la settimana poi settima domanda fai tutte le file a guardare il prodotto o vai direttamente a prendere le cose che ti servono no assolutamente io devo guardare prodotto per prodotto mi piace proprio il fatto di sbirciare tutto quindi come vi ripeto io lo faccio con calma mi passa il tempo specialmente se vado a Lidl lì non mi deve tartassare nessuno perché divento una belva perché devo guardare tutti devo guardare tutte le cose che non posso mangiare quindi tutti quei dolciumi che loro preparano quelle cose calde il profumo del pane tutte le devo guardare tutte e poi ovviamente mi devo prendere un po' di tempo nel guardare tutti i vari corridoi dove ci sono tutte quelle offerte particolari per quanto riguarda il Lidl dove ci sono oggettistica diciamo pennelli abbigliamento tutto quello che mi serve o che mi servirebbe quindi poi per quanto riguarda la mia dieta trovo molto spesso le cose lì a Lidl quindi li guardo attentamente poi ottava domanda ti piace ricevere volantini per vedere le offerte? allora di norma si mi piace ricevere volantini ma io volantini non ne ricevo mai perché quando diciamo ho la possibilità di scendere sotto per prendere un volantino ho già quelli della spazzatura se lo sono tirato dalla buca delle lettere e l'hanno già buttato io non lo so perché ce l'hanno con con le mie carte non lo so sinceramente perché io vedo di fronte a me non ci abita nessuno e lì hanno le carte tutte belle imbustate nella buca delle lettere invece a me li tirano fuori e li buttano direttamente perché devono pulire la strada e automaticamente la puliscono in automatico loro togliendo proprio le riviste e io ho la possibilità soltanto di quando vado da mia mamma li vedo direttamente da lei quindi non ho domanda preferisci i grandi ipermercati o negozietti al dettaglio no io preferisco i grandi supermercati perché mi piace proprio tutte vedere cosa hanno e cosa non hanno ovviamente mi ha scusate allora ovviamente mi piace andare per i supermercati proprio quelli grandi perché mi piace proprio guardare tutto specialmente nelle novità e in questo periodo mi mangerei le mani perché non posso uscire ma andrei sicuramente dove è andato un paio di giorni fa perché non so quando vedrete questo video esattamente è andato un paio di giorni fa Melania Melania De Marco che è una ragazza che fa video su youtube quindi su youtube la trovate come Melania De Marco su instagram invece la trovate come Melima De In Sud è una ragazza simpaticissima ve la consiglio sinceramente perché a me fa morire perché ha quel napoletano siciliano italiano che veramente fa schettare delle risate e poi lei è la regina di delle orospine perché noi abbiamo la regina del Lidl che è Elisabetta R che saluto che so che guarda i miei video e anche Melima De In Sud che è la regina delle orospine quindi la saluto anche lei ti mando un bacio Melania ed è molto simpatica e quindi mi ha fatto scoprire un negozio a Catania e io devo assolutamente andarci non vi dico che lei mi sta spingendo mi ha aperto la porta per andare in questo negozio e devo controllare perché ovviamente ci devo mettere il naso anche lì quindi ci andrò sicuro poi decima domanda cosa ne pensi della possibilità di fare la spesa online hai mai provato no assolutamente perché fin quando ho la possibilità di uscire fuori di casa esco mi piace andare proprio a comprare le cose diciamo toccarle e comprarle mi è capitato di acquistare online dati gotà se non mi sbaglio ho avuto delle il pacco è arrivato subito non ho avuto nessun tipo di problema però parlo di prodotti per la casa queste cose qua ma fare la spesa di pasta no perché non mi fido devo controllare la scadenza devo fare tante altre cose quindi preferisco comprarle io direttamente poi undicesima domanda stai attenta a raccogliere i coupon no non non prendo coupon assolutamente niente proprio niente di niente dodicesima domanda compri molti prodotti bio no ho acquistato alcuni prodotti per i capelli per quanto riguarda il bio non mi sono trovata bene quindi non l'ho acquistato più per quanto riguarda la casa mi trovo bene con i prodotti che compro normalmente quindi non non ho quella ricerca di di prendere qualcosa di bio preferisci comprare cose di marca o tarocche allora sinceramente l'ho scritto anche sul video di Betty82 non mi piace il fatto di dire tarocco perché è una cosa che non mi piace preferisco comprare cose di marca o sottomarca io la chiamo che nemmeno quello sarebbe il nome però io acquisto come vi ho detto poco fa delle cose alle Eurospin se non li trovo alle Eurospin vado in altri supermercati ma molto spesso mi capita che io la maggior parte delle cose li compro alle Eurospin poi se mio figlio vuole dei biscotti quelli con la Nutella o vuole la Nutella pan di stella devo andare in un supermercato ma la maggior parte delle cose biscotti brioche pasta latte surgelati la qualunque io la prendo direttamente alle Eurospin perché mi ci trovo bene sinceramente quindi non direi cose taroccate io direi un altro tipo di marca e devo dire che mi sono trovata bene l'unica cosa che non mi sono trovata bene con le Eurospin sono i prodotti tipo bagnoschiuma shampoo quelli non mi sono trovata bene però perché anche uso dei prodotti più particolari quattordicesima domanda quanti centri commerciali ci sono nella tua città no la mia città non è la mia non è una città ma scusate rumore la sedia la mia non è una città ma è un paese e non ci sono centri commerciali ma ci sono dei supermercati normalissimi tra cui Acqua e Sapone Eurospin un altro negozio che non mi ricordo un altro supermercato che non ricordo come si chiama poi c'è Sabato che sarebbe un signore che vendeva le cose con il furgoncino all'inizio e invece adesso ha avuto la possibilità di ha avuto la possibilità di aprirsi un suo supermercato e sinceramente sono molto contenta di questo perché se lo merita è una persona molto molto brava poi c'è paghi poco questi sono i supermercati che abbiamo qui a Palagonia e io sinceramente mi trovo bene con Eurospin sabato e il Acqua e Sapone ovviamente sapete tutti che a me piace Acqua e Sapone allora per quanto riguarda le persone che voglio taggare ve li scriverò qui vi scriverò tre persone spero ovviamente che faranno questo questo tag io ovviamente andrò a vedere se queste persone non l'hanno fatto perché mi sembra poi inutile taggarle se poi l'hanno fatto io ringrazio tantissimo Betty82 ti mando un grosso bacio ovviamente lei fa parte del nostro trio quindi non dimenticate che il martedì di ogni di ogni settimana ovviamente ogni martedì facciamo così ogni martedì esce un video in collaborazione con le Makeup Angel e quindi con Fabiana e Elisabetta ovviamente dovete andare subito 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 a vedere i nostri video io ringrazio Betty e cosa dirvi di più se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao